Top 10 cibi più ricchi di calcio Ciao a tutti, amanti della salute! Oggi esploreremo insieme il fantastico mondo del calcio, un minerale essenziale per ossa e denti forti. Scopriremo i 10 cibi più ricchi di calcio, con le quantità per ogni 100 grammi, e parleremo dell'importanza di questo minerale per il nostro corpo. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi per non perdere i nostri consigli sulla salute. Il calcio è fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, ma il suo ruolo va ben oltre. Contribuisce alla contrazione muscolare, alla trasmissione degli impulsi nervosi e alla coagulazione del sangue. Una carenza di calcio può portare a problemi come l'osteoporosi e l'insufficiente coagulazione del sangue. Ecco la nostra lista dei top 10 cibi ricchi di calcio in ordine crescente di quantità su 100 grammi di prodotto. I broccoli, oltre ad essere ricchi di fibre, contengono anche una buona dose di calcio, perfetto per una dieta equilibrata. Gli spinaci sono una fonte vegetale ricca di calcio, anche se la loro assunzione può essere ottimizzata attraverso la cottura. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. Lo yogurt greco, oltre ad essere ricco di proteine, fornisce una buona dose di calcio per mantenere le ossa forti. Il latte di mandorla fortificato è un'ottima alternativa al latte vaccino, offrendo calcio aggiunto nella tua dieta. I fichi secchi sono uno spuntino dolce che porta con sé una buona quantità di calcio. Le mandorle sono non solo uno snack delizioso, ma anche una ricca fonte di calcio e vitamina E. Il tofu, un prodotto a base di soia, è una valida fonte di proteine e calcio, ideale per diete vegetariane. Terzo posto per i semi di chia. Questi semi sono piccoli ma potenti, offrendo una dose significativa di calcio oltre ad altri nutrienti. Al secondo posto, i semi di sesamo sono una potente fonte di calcio, perfetti per arricchire insalate o piatti principali. E al primo posto, il parmigiano. Il formaggio parmigiano è un concentrato di calcio e sapore, ideale per arricchire i tuoi piatti. Integrare questi cibi ricchi di calcio nella tua dieta quotidiana può contribuire significativamente al mantenimento della salute delle tue ossa e al benessere generale. Ricorda sempre di variare la tua alimentazione per garantire un apporto equilibrato di nutrienti. Prima di apportare cambiamenti significativi alla tua dieta, ricorda sempre l'importanza di consultare un professionista della salute o un nutrizionista per garantire che le tue scelte alimentari siano in linea con le tue esigenze nutrizionali individuali. La consulenza esperta è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi di salute in modo sicuro e personalizzato. Qual è il tuo cibo ricco di calcio preferito? Condividilo nei commenti E se hai trovato utili questi consigli, lascia un like e iscriviti per rimanere aggiornato sui nostri video sulla salute. Grazie per esserci e ci vediamo al prossimo appuntamento. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.